Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un campo di alta pressione interessa gran parte del nostro territorio, infatti avremo una giornata all'insegna della stabilità con sole protagonista e clima asciutto. Vediamo più nel dettaglio la mappa delle nuvole, avremo giusto qualche annuvolamento di poco conto in transito ma comunque il clima sarà asciutto e le temperature riprenderanno a salire su valori anche al di sopra delle medie stagionali. Vediamo infatti il tempo che ci aspetta nel corso di venerdì, avremo un contesto per lo più stabile soleggiato da nord a sud, giusto qualche annuvolamento pomeridiano possibile sull'arco alpino occidentale, qui con la possibilità per isolati piovaschi e con temperature che potranno anche superare i 25 gradi sulla Val Padana occidentale e a tratti anche sul versante tierrenico. Ma per maggiori dettagli, come sempre, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.